E' abbastanza cogente, abbastanza importante. La questura di Pesaro ha notificato i cosiddetti dasp urbani nei confronti di sei persone, cioè il divieto di frequentare determinate zone della città a soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Le misure sono state prese nei confronti della baby gang che agiva nel quartiere di Loreto, in Piazza Redi, una banda già nota alle forze dell'ordine che vede il coinvolgimento di molti minori, tra essi c'è anche un ragazzino di dieci anni. In tal caso sono stati emessi due daspo a due sedicenni coinvolti in danneggiamenti, furti e in aggressioni futili ad un passante. Ad essi è stato notificato il divieto di accesso a tutta l'area di Piazza Redi e ai servizi commerciali della zona assieme all'obbligo di presentazione in questura per tre volte alla settimana. Inoltre, ad un diciottenne coinvolto anch'esso nella vicenda, è stato notificato un avviso orale, nonché la misura di prevenzione che consiste nell'intimazione a modificare la propria condotta di vita socialmente pericolosa. A far parte della banda che ha agito nei mesi scorsi in Piazza Redi circa una decina di ragazzi del posto che utilizzavano il quartiere come punto di ritrovo. Abbiamo deciso di intervenire con questi daspo willi che appunto sono stati da poco introdotti dal decreto legislativo 2020 a persone anche ultra quattordicenne, quindi anche minorenni, che abbiano commesso anche solo già un fatto di reato o anche più denunce oppure un arresto, un fermo purché convalidati dall'autorità giudiziaria e nei pressi di locali pubblici, locali aperti al pubblico o comunque determinate aree urbane e centri commerciali. E quindi per due ragazzi minorenni di 16 anni, una volta che abbiamo notato che gli episodi si stavano un attimo incentivando, abbiamo deciso di intervenire con questi due DACUR, cosiddetti daspo urbani. Gli altri quattro divieti di accesso ad aree urbane notificati riguardano invece persone tra i 22 e i 50 anni, tra questi c'è anche una donna, già coinvolti in passato a vario titolo in reati contro il patrimonio, comportamenti violenti e ubriachezza consumati nella zona del centro commerciale Cop Miralfiore di Pesaro. Anche lì abbiamo emesso dei provvedimenti analoghi, diciamo che lì prima c'era una situazione sicuramente di disagio con persone, anche questi tutti con precedenti, per reati contro la persona, contro il patrimonio, manifesto ubriachezza, però siamo intervenuti una volta che invece l'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico è intervenuto su richiesta dei cittadini per una rissa gravata con bastoni. Allora lì abbiamo deciso di intervenire, abbiamo emesso quattro daspo urbani a queste persone, quindi anche loro avranno il debito di accesso nel centro commerciale, negli esercizi dentro il centro commerciale, nei parcheggi e nelle aree rimitrofe. La violazione è punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con una multa fino a 20.000 euro, quindi diciamo è abbastanza cogente ed è immediatamente attiva. Poi seguirà l'esercizio penale con le varie denunce. Un altro avviso orale, infine, è stato notificato dal questore ad un 52enne, noto per essere stato il protagonista di più episodi di atti osceni e i danni di minori, l'ultimo dei quali si è verificato nel centro storico di Pesaro, nei pressi di un istituto scolastico.